In tutte le piazze italiane con il gazebo portando tre proposte con una raccolta di firme. La prima proposta è un bonus di 5.000 euro per tutte le famiglie che hanno bimbi al di sotto di 5 anni. La seconda proposta è il rimborso del 50% di l'IVA sugli acquisti effettuati con pagamenti elettronici. La terza proposta è il dimezzamento delle tasse sull'impresa, quindi il dimezzamento dell'IRAS.